Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovati al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò della Speedbottle e del suo utilizzo. Io sono un bartender professionista, appassionato studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Satiro, Licorio Pineta, Vermut Mita e l'ultimo arrivato il Licorio Almirto Fore. Ora andiamo a scoprire appunto come utilizzare la nostra Speedbottle. Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, dai anche un'occhiata se ti va agli altri nostri canali social, Instagram e Facebook, il giardino sotto il naso e dove pubblichiamo regolarmente contenuti diversi da quelli appunto del nostro canale YouTube. Ho deciso di registrare questo video perché appunto il nostro seguace amico, insomma Marco Incis, ci ha scritto insomma un piccolo messaggio dove voleva qualche informazione in più sulla Speedbottle e sul suo utilizzo. Insomma, perché no? Io in realtà ho già parlato della Speedbottle quando abbiamo fatto insomma la panoramica generale sull'attrezzatura del bar, però effettivamente mancava un piccolo approfondimento appunto su questo attrezzo. Quando abbiamo parlato appunto della bottiglia avevo già detto che la bottiglia composta dalla Speedbottle è appunto una bottiglia utilizzata soprattutto nel diciamo nello stile free pouring e nel diciamo quando c'è un quantitativo di persone molto elevato e quindi sicuramente ci aiuta tantissimo. La particolarità è appunto che di solito la Speedbottle è composta da un bicchiere, da un tappo e poi c'è il collo e un tappo dosato, un tappo versatore, un po' come se fosse un plastic pour in qualche modo. Non lo vado a sganciare che tanto non serve. Ad ogni modo funziona in questo modo. Quando mi serve vado, quindi quando lo devo utilizzare vado ad avvitare la parte di sopra appunto del versatore e invece quando ho finito il turno di lavoro semplicemente questo lo metto a lavare e questo di solito è incastrato sotto, vado a chiudere e lo vado a conservare in frigo. La particolarità di questo è che poi tutte le Speedbottle, quindi tutta la base e tutte le base delle Speedbottle che ho nella mia postazione posso impilarle una sull'altra appunto e metterle in frigo. Occupano poco spazio e sono molto pratiche, pronte poi per l'utilizzo e il giorno successivo. Altra piccola cosa le Speedbottle hanno un colore, in questo caso è arancione ma poi ce ne sono di diversi colori e ogni postazione di solito ha per esempio il succo di limone, lo sweet and sour, succo d'arancia, succo di anus e hanno un colore diverso o hanno comunque dei segni di riconoscimento e appunto quando andiamo a versare insomma i nostri ingredienti deve essere facilmente e velocemente individuabile in mezzo alle altre bottiglie. Si utilizza questa Speedbottle quando senza utilizzare per esempio i brick, quelli di là dei succhi di frutta per esempio, che bisognerebbe ogni volta aprire e poi sono scomodi da versare. In questo caso così come per il Metalpur avendo una bocca diciamo così da un versatore che ha una forma particolare riusciamo a versare in maniera regolare e possiamo anche mantenere una proporzione ben specifica, due sono le cose, uno che nel conteggio dobbiamo misurare, dobbiamo calcolare il doppio, adesso ti farò vedere in che cosa intendo, in più questo qui non ha il bubble così come nel Metalpur, quindi quando andiamo a fare per esempio il freepuring, forend o come vogliamo non dobbiamo conteggiare il bubble che succede appunto con il Metalpur normale, ecco diciamo così. A questo punto andiamo nella parte pratica, quindi abbiamo detto che cos'è la bottiglia, come è composta, quando si utilizza e per cosa si utilizza. Chiaramente si può tranquillamente lavare in lavastoviglie senza problemi e mi raccomando a tenere sempre l'etichetta con cosa è contenuto all'interno e quando è stato insomma imbottigliato e a questo punto non resta altro insomma che fare della pratica. Per esempio vado a prendere il mio, diciamo il mio tin o il mio bicchiere, insomma il mio contenitore diciamo così e vado a impugnare la mia speed bottle così come se stessi impugnando una bottiglia. Io di solito, così come ti ho fatto vedere nel Versaggio forend, vado a mettere le tre dita avanti, il mignolino dietro e quindi con una bella impugnatura. Perché metto il mignolino dietro? Perché mi consente di avere una flessibilità di polso molto più, una mobilità del polso molto più ampia. Prova a fare un'impugnatura con il mignolino dietro e con il mignolino davanti. Vedrai che con il mignolino davanti, quindi con un'impugnatura rigida così, il mio polso ruota molto di meno rispetto a... diciamo è molto meno flessibile. Però è una mia... è un mio metodo. A questo punto provo a fare questa prova qui. Se è vero che ogni secondo equivale a 2cl andrò a fare, per esempio, andrò a contare fino a 3 e quindi avrò 6cl. Proviamo? 1, 2, 3. A questo punto, se è vero che sono 3cl, questo qui è un jigger da 6cl e siamo praticamente precisi, così come puoi vedere. In realtà, vabbè, io avevo messo questo contenitore qui, però se proprio vuoi essere sicuro... ecco. Veramente molto semplice da utilizzare e... ed eccoci qua... sono 60 precisi. Quindi, questo lo puoi fare. Io ti consiglio, insomma, la speed bottle è molto, veramente molto comoda. E... semplicemente un secondo equivale a 2cl. Tutto qua. Quindi, ripeto, non c'è altro da aggiungere, è veramente molto intuitivo. Chiaramente ci sono dei liquidi che hanno una viscosità, cioè sono un po' più densi. Quindi, non viene utilizzato intanto per gli sciroppi questo qui, però, per esempio, alcuni succhi di frutta, per esempio, non lo so, il succo di pera, che mi viene in mente, è un po' più denso rispetto a quello. Quindi, a questo punto, va leggermente tarato il versaggio, ma questo è una questione anche lì di pratica e poi va contestualizzato e personalizzato a seconda, appunto, del liquido che c'è all'interno e del tuo conteggio che hai personale. Però, approssimativamente, quello che ti ho fatto vedere è veramente il metodo più veloce e più pratico per utilizzare, appunto, la nostra speed bottle. E questo ci consente anche, per esempio, di fare idem quando vado a fare il... posso farlo in back-end, così come ho già detto, in forend o, insomma, come vogliamo, è la stessa cosa delle bottiglie. Quindi, la cosa, un altro piccolo tassello della speed bottle è che io posso utilizzare, posso fare sempre e comunque, per esempio, facendo un v-pour, così come ti ho fatto vedere, con due speed bottle differenti, ma anche con tre, volendo, a seconda, se, per esempio, se devo fare un analcolico con tre succhi diversi, posso, per esempio, prendere due o tre speed bottle e versare contemporaneamente, cose che con dei brick non potrei fare, o con le bottigliette, quelle, diciamo, piccole, ok? Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, un bel pollice all'insù, commento e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti, se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire, e mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, in questo modo rimanerai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio, non resta altro che dire, ci vediamo presto, anzi prestissimo, alla prossima, ciao!